ok piede sul freno spingi qua ok vieni pure indietro vieni pure accelgere gira tutto verso vieni pure indietro vieni pure indietro ok guarda la ragazza che ti fa la foto ok vai pure si con la paletta vai pure tira verso di te e lì ci metti le marce vai ok aspetta aspetta che parte vai 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 ok vai pure destra o sinistra no dritto andiamo guarda piero ferrari questo è il figlio del drake no come l'ho visto che si dicevo no ha visto comunque il macchinetto gira una fiat 500 x non è per non far si riconoscere no davvero è incredibile ah qua si vedono tutti ma anche i piloti effetto il piloti oggi oggi o domani ci sono in questo giorno non ci sono i piloti ci sono i piloti ci sono i piloti ci sono i piloti ecco non ci sono i piloti questo manforo non lo vedo ah non te lo dico io si è fatto qua sta calmo non mi metti l'ecitazione ecco è vero vai pianino comunque vai a sinistra dimmi quando dimmi quando si le fronte sono bastanti sto facendo sto filmando va via questa via anche questo è Clio non mi metti come te lo dicevi ti fa scendere sono un ex alfista sono un ex alfista e poi lo so sempre a destra vai con la limetta a destra vai in su in su e a sinistra in giù non capisco aspettavo ma vai in prima da sola? si si la l'ho messa mmm mmm è più buono io la l'ho ma che cazzo faccio dai sai che sto a fare? i filmatini a 28 ore? poi mi batte il culo madonna che buono lì è la lusso il V12 e l'ha fatto un bel rumore ma anche questo fa un bel rumore è buono proprio ad arci come va? come l'hai messa guarda qua segui ok qua a sinistra e qua a destra vai 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 qua acceleriamo qui ti stoppi di nuovo start e poi vai vai quando cambi non togliere il gas se la tieni premuto si bucine? dove è? tra Firenze a Rezzi tra Firenze a Rezzi però è sotto Firenze o no? si si è sotto Firenze un po' che sta dietro da una polpa ah se si può sorpassare si si un volantino così è favoloso se ti andrà e sui la se la rimettate la l'inferma del vittorio vittorio Sì, è un pazzesco. Sì 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 Vai Sì Sì Ma questa scala da sola? Sì Un cambio automatico Vai Se vai troppo piano o scala da sola? Sì Ti rilascio Sì Vedi? Prima Stavo cercando il cambio Qua destra Questa è un'altra cosa Questa è un'altra cosa Abbiamo tutta l'elettronica Qua sinistra Questa è un'altra cosa Vai pure su Ah ok Bene Dove? Quindi è solo lontoi Certo Nei Non in basso i regimi andrà bene uguale la regge è la sesta a 2000 g se non la regge è la scala ripiglia bene anche paolo trova la lamborghini verde il trafigo e cio ci abbiamo trovato adesso a rientrare no ma là di dietro si andiamo sempre bene anche se non si andiamo non è un paolo l'anno ci va così ah questa è straf questa è straf ora ok 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 Sì sì sì, oggi ce ne arriva di buono mille Ferrari da tutto il mondo C'erano più di 500 su Milano ieri in Corso Sempione, tutte parcheggiate, hai letto no? Sì sì, più dopo tutte quelle altre che arrivano per i fatti loro, più di un migliaio sicuro Poi a Modena c'è qualcosa, anche dopo andiamo a Modena, forse stamattina c'è Dovrebbero arrivare anche le frecce tricolore Ieri è venuto per illustrazione un Typhoon 2000, sai l'Eurofighter, quello fatto proprio così Io è buono, qua a destra, ha fatto due o tre passaggi così, poi l'ultimo è arrivato giù basso basso e è andato su dritto come uno shuttle Ha fatto tremare i vetri, un lavoro incredibile Ma quegli aerei lì sono impressionanti, sono impressionanti, c'ha due motori rossi dietro Noi dovremmo provare la FXX Noi dovremmo provare la FXX Noi dovremmo provare la FXX Qua è un casino guarda, ascolta, aspetta aspetta che qua non riusciamo mica più No, vai a destra, vai a destra, che proviamo a destra Quindi? Si, ci giriamo e prendiamo quell'altra strada Qua non riusciamo più Si, a voglia, guarda che casino che c'è Guarda, ti giri e poi torniamo indietro Quindi riesco da qui? Si, si, si Ma questo qui è lo stabilimento? Guarda, dietro a quel zavaglio lì, cos'è? Un levante Questa è la stessa? No, no, è la levante Dietro a quella lì C'è qualcuno Vai, vai, vai Proviamo a fare quell'altra strada Vedersi Te l'ho detto, vedi L'accelerare ne troviamo finchè vogliamo Dopo rientrare Mi sarebbe piaciuto Perché è il casino, sai perché? Cioè, perché le macchine, le Ferrari entrano Dalla galleria del vento ed escono dall'entrata principale Vai qua Mi sarebbe piaciuto Tentare di metterci in mezzo anche noi Hai capito? Così attraversevamo tutta la fabbrica E avevamo, eh, lo so Però non siamo autorizzati Non vorrei che prendessimo anche delle insulenze Però sai, con una Ferrari Non so, se passassi con quella Lamborghini verde che abbiamo C'erano uno sfreddo Soprattutto ora è diventata tedesca Ah, ma guarda che Progetti segui italiani Guarda che comunque L'ha salvata, eh, sennò la Lambo C'è una morta fine Come mai non vendeva? No, ma perché era dei zavagli La Diablo era ancora italiana Non era affidabile No Ma no Però La Ducati la vogliono vendere E' stato un acquisto che non gli è piaciuto Al gruppo Audi Sì 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 Ok Vai pure Vai Ah Qui c'è lo stezzo diretto Paolo Eh Lo stezzo Lo spettacolo Solo 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 Lo stezzo Meraviglioso E' una cosa E' un sport E' un sport E' un sport E' un sport Ti è fidato a mettermi nel sport Sì Sì Lo vedo molto tranquillo No, io ho fatto anche il corso di guida lì A Pavia Se erano 8 gruppi Siamo arrivati Qui in Renza Andai Siamo arrivati O primi Però se era un gruppo Era una donna e basta Prima di tutto Vai 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 Quella ci ha aiutato Vai 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 Poi c'era una Vada e tutte in grado Un'altra da Porsche Fammi vedere se ci abbiamo guadagnato Vai 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 Se ci abbiamo guadagnato Ah sì Era va dietro alle vanno Sì sì Vedo la Maserati ancora di là Sì 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 No è facile davvero Anche nel traffico Stavo peggio Anche l'abitudine al cambio Così senza frizzone La fai subito Eh eh Ci vedo eh Eh sì C'è gente che ti pigge il freno A corso dell'agizia Col piede sinistro Tu vedi musate battine Non sarà mai successo Vedi escono da lì Qua a destra Voi buure Vi buure Sono qua non Ea Com'cio La Peguzia Johnny qui andiamo a sinistra, questa è la fabbrica, si quella è la Ford Blue, la fabbrica era quella dove ti ho detto che venivano fuori, qui è la gestione sportiva si qua siamo arrivati aspetta che sono tutti qui solo bella questa guarda noi possiamo andare se no qui non entriamo mai più vai 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 noi dobbiamo tagliare di là questo è un casino no la c'è anche la corriera che vive via è un disastro un disastro quante ne arrivano da lì rispettate insomma ora non si passa più c'è quella bianca in mezzo c'è una donna che guida no 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 non so se dove fanno loro queste cose lui mi ha bloccato l'entrata il pullman io ho bloccato queste sieste che cosa sta parlando lì? sai che cosa sta parlando lì? dove non entra ma si quelli lì erano po' le coglioni da stamattina che una ogni dieci minuti porca vacca boia e intanto ti ci fanno si si vai 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 così si sgazzano quelli non si deve parlare ogni volta tutto pullman non è Rolls Royce Paolo eh? Rolls Royce ah eh eh ma la targa che ha eh eh 616 km e basta ma è Monaco Monaco? si 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 è bello meraviglioso questa è una foto che ha le mani bianca questa è rara da vedere che cosa ha le cose stalle che cosa sta parlando ha le gomme lisce quello dietro è un po' meglio quello dietro è messo meglio vai 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 ok tutto a destra stop guarda facciamo la retromarda poi la mettiamo tutta qua 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 perfetto stop ok chiudi guarda 25 minuti non è andata neanche guarda guarda